Ciao a tutti e benvenuti e bentornati nel canale. Allora, oggi di nuovo video haul e inizierò a farvi vedere degli affezzi che ho fatto di maglia e vestiti e poi passerò ad altre cosine. Iniziamo subito. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa vestito maglia, questa così. L'ho presa all'OBS ed è della Maui e mi piace veramente moltissimo. Ha queste frange sotto ed è veramente carino. Indietro è nero, semplice e mi piace veramente tanto. La seconda cosa che vi faccio vedere è questa maglietta che ragazzi è troppo carina. Quando l'ho vista sono impazzita perché voi ormai mi conoscete. Sapete che amo i coniglietti, quindi guardate che carina che è con gli occhiali. è bellissima, è semplice, è una magliettina, però è troppo bella. Poi ho comprato da Zwicky una maglia tutta con gli stregatti di Alice in Wonderland. A me piace tantissimo lo stregatto come personaggio, ecco. E questa era proprio carina. Anche questa è bianca, quindi anche per l'estate va bene che non attira il sole e non muoio. E poi abbiamo l'ultima acquistina che è questa bella camicia. Allora io non metto le camicie, cioè praticamente questa è la prima camicia che io ho comprato in tutta la mia vita perché mi piaceva questo stile un po' rock, un po' così. E ha anche il fiocco qua che si lega, quindi mi piaceva moltissimo. E ho deciso di comprarla, adesso vedremo quando la metterò come mi sgarà. Adesso passiamo agli acquisti invece, dove non vedrete me, ma vedete forse sono gli acquisti perché sono un po' più piccolini e così li vedrete meglio. Ok, allora andiamo per ordine. Ieri sono stata da OVS e ci sono state un po' di novità e quindi ho comprato qualcosina. La prima cosa che ho comprato è questo che è Ice Flake FX ed è un top coat molto molto carino che appunto sopra gli smalti dà l'effetto del ghiaccio e mi piace molto, lo voglio assolutamente provare. Poi ho comprato questo rossettino che è Velvet Matte numero 18. È una novità per Essence, infatti c'era scritto proprio novità, ed è questo colore granata, tipo così. Io volevo il viola, ma ovviamente è andato a ruba e non c'era più, quindi ho detto proviamo questo colore qua. Poi ho provato a prendere questo che in pratica è tipo un primer occhi perché io non ne avevo mai, cioè non ne ho mai usati e quindi questo mi hanno detto che funziona bene, è una novità, ho fatto scritto il mio e lo proverò. Poi ho comprato una matita occhi in gel bianca perché non ho mai avuto matite bianche anche qua, quindi sto sperimentando un po'. È fatta così dentro, semplicissima, ha una puntina molto fine ed è in gel ed è waterproof. Anche questa è una novità di questa stagione, quindi... Oh, ma forse... Ah, non sapevo che era anche da tirare fuori. Molto carina. Poi ho comprato, sempre per le unghie, questi adesivi qua. Sapete che a me questi motivi un po' come dire a stechi mi piacciono moltissimo e quindi questi erano bellissimi. Poi invece dal sito Aliexpress mi sono finalmente arrivati questi che sono sempre per le unghie. Adesso c'è un po' il riflesso perché c'è la pellicola. Comunque sono degli adesivi per unghie, sempre in stile un po' galaxy, un po' indiano, eccetera. Molto carini e non vedo l'ora di provarli. Sempre da Aliexpress mi è arrivata la nuova cover, molto bella, guardate. Anche qua c'è lo stregatto, praticamente. Sì, era carinissima per il mio telefono, anche dietro è così. E poi gli ultimi due acquisti che sono fatti, diciamo, presi dalla Games Week sono questo carinissimo straccettino per pulire gli occhiali, perché io non ne avevo uno, quindi è molto carino. E come vedete ha i Pokémon, ma è troppo carino. E questo portamonete a forma di Stitch. Semplicissimo e morbidissimo di peluche. È veramente troppo, troppo carino. Bene ragazzi, questi erano gli acquistini, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, condividetelo, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!